Buongiorno a tutti, grazie per aver partecipato, per essere presi qui, soprattutto a questa conferenza stampa di presentazione ufficiale del nuovo responsabile del settore giovanile dell'Atalanta, Roberto Samaden. Prima di coinvolgere i redditori, prima di dare spazio alle vostre domande, chiederei al nostro amministratore delegato Luca Percassi di introdurre questa conferenza stampa con un saluto ufficiale di benvenuto a Roberto Samaden e magari spiegando anche le motivazioni che hanno portato a sceglierlo appunto come nuovo responsabile del vivaio nerazzurro, dottor Percassi. Ovviamente buongiorno a tutti anche da parte mia, oggi è una giornata veramente molto molto importante per l'Atalanta, è una giornata che rappresenta la storia di quello che succederà nei prossimi anni. In questi mesi da quando Maurizio Costanzi, che ringrazio enormemente per il lavoro che ha svolto, mi aveva comunicato il fatto di voler, tra virgolette, prendersi una pausa dopo tutti questi anni abbastanza impegnativi. La mia preoccupazione, la nostra preoccupazione come società era trovare una persona adeguata alla storia dell'Atalanta, a chi ha gestito il settore giovanile, quindi a Mino Favini e poi a Maurizio. E devo dire che è stato un lavoro complesso perché una persona che racchiudesse tutte queste caratteristiche che fosse adeguata a quello che noi pensiamo come ruolo, come responsabile del settore giovanile è stata una scelta molto complicata. La verità è che a detta di tutto, di tutti gli eletti ai lavori, Roberto Samaden è considerato il miglior dirigente italiano come responsabile del settore giovanile e sinceramente io non pensavo che lui potesse essere disponibile a venire ad Atalanta. La verità è che, come sempre, quando ci si incontra e ci si confronta, molto spesso nascono delle opportunità a cui non si aveva pensato. Quindi diciamo, per noi oggi annunciare Roberto Samaden come responsabile del settore giovanile dell'Atalanta è il più grande acquisto che l'Atalanta può fare, può aver fatto in questa sessione di mercato perché è una scelta veramente molto molto ponderata, molto molto calibrata e che ci rende particolarmente orgogliosi. Grazie al dottor Percassi, direttore, dopo il benvenuto ufficiale da parte del nostro amministratore delegato chiedo anche a te un indirizzo di saluti da neoresponsabili del settore giovanile dell'Atalanta. Sì, buongiorno a tutti. Come ha detto Luca, è un momento importante, per me è un momento importantissimo e sono onorato di questa opportunità e ringrazio Luca, la proprietà, il Presidente e tutta la società per avermi scelto. Ho vissuto un'esperienza precedente ovviamente importante e particolare perché non è comune rimanere in un club per così tanti anni. La prima scelta è stata quella di provare a fare una nuova esperienza e sinceramente avevo idea di provare a farne una nel mondo delle prime squadre come completamento un po' della mia vita professionale. In realtà poi, come ha spiegato bene Luca, ci sono dei momenti e anche delle opportunità che magari non pensi di avere che invece in un attimo ti cambiano la vita. Io ho avuto la fortuna e l'opportunità di incontrare Luca e credo in dieci minuti di aver cambiato completamente idea, quindi avevo in testo una cosa e nel momento in cui ho conosciuto Luca e condiviso con lui l'idea di progetto che l'Atalanta ha sui giovani, ho cambiato completamente strada. E quindi quello che non avrei mai pensato di fare, cioè di lavorare in un altro settore giovane, lì invece è diventata realtà. Considerate che io sono cresciuto col mito dell'Atalanta perché ho iniziato a lavorare negli anni 90 e l'Atalanta è sempre stato un modello di riferimento, in particolare ho avuto la fortuna di conoscere e anche di essere aiutato tantissimo da Mino Favini perché è stato un riferimento anche personale. Ma quindi io crescendo con questo mito, con questo modello, ho sempre detto anche che nel momento in cui ho ricoperto il ruolo di direttore di settore giovane dell'Inter ho anche cercato e penso anche di essere riuscito a portare tante cose che ho imparato da Favini e che ho conosciuto osservando e analizzando quello che era il mio modello di riferimento e che credo sia stato il modello di riferimento da sempre per chi lavora nel settore giovanile. C'è l'Atalanta, una società che da sempre per il suo DNA investe e crede nel settore giovanile. Quindi ho svoltato completamente strada e da quel momento non ho più avuto dubbi, non vedevo l'ora di iniziare, quindi per me ieri è stato il primo giorno di scuola perché dopo 33 anni non è banale cambiare ma devo dire che sono entrato qui e al di là dell'emozione, soprattutto nel vedere la foto di Favini all'ingresso mi sento già a casa mia e mi sento a mio agio e ringrazio nuovamente Luca e tutti quelli che mi hanno accolto e mi stanno accogliendo in maniera strepitosa. Ok, grazie direttore per questo incipit, adesso possiamo dare inizio al giro delle domande premessa doverosa, implicita, facilmente intellegibile oggi si parla solo di settore giovanile e del nuovo responsabile del vivaio nerazzurro cioè Roberto Samaden. Iniziamo come da tradizione da Maier di Bergamo e Sport. Buongiorno, volevo chiedere, lei è stato 33 anni all'Inter con un sacco di successi sa benissimo che c'era la concorrenza spietata con l'Atalanta perché venivate anche nel territorio bergamasco a portare, a prendere i ragazzi ne so qualcosa, poi le lo spiego a livello personale niente, volevo dire, se in questo mondo, diciamo così, del calcio globale dove molti sono i ragazzi non italiani che vengono nel settore giovanile se lei pensa che nel territorio bergamasco, che è sempre stato ricco di riuscire a portare, diciamo, qualche virgulto in più rispetto agli ultimi anni ma non per incapacità, ma perché la realtà è questa, insomma che ci sono tante, diciamo così, concorrenze e non sempre si riesce ad arrivare prima. Allora, qualsiasi settore giovanile, in qualsiasi angolo, io dico d'Italia in realtà di Europa, conosco bene anche il calcio europeo non può prescindere dal territorio poi, diciamo, l'ampiezza del territorio poi è determinata delle volte anche dalle situazioni geografiche ci sono territori che magari producono meno giocatori storicamente quindi ci sono società che sono obbligate anche a spostarsi e muoversi sicuramente quello che abbiamo condiviso con la proprietà e con Luca è proprio quello di essere al passo coi tempi quindi una società non può pensare, come l'Atalanta, di vivere di solo territorio ma sicuramente deve basare tutto il suo progetto e la parte iniziale sul territorio fondamentalmente anche le regole obbligano a questo perché finché tu non puoi portare giocatori da fuori regione e quindi per una larga fetta di percorso devi attingere dal territorio è chiaro che la Lombardia è una regione molto particolare perché c'è una concorrenza fortissima quindi sicuramente ci sono società che sono venute e vengono della Bergamasca e ci sono società che vanno anche nelle altre province lombarde questo è uno degli obiettivi in realtà è uno degli obiettivi in linea con la tradizione perché la storia dell'Atalanta parla l'Atalanta è sempre stata una realtà che dal punto di vista del settore giovanile e non solo è stata molto radicata sul territorio e quindi senza tralasciare nessuna opportunità che secondo me oggi siamo nel 2023 non si può pensare di lavorare solo e soltanto e di far crescere solo e soltanto talenti e ragazzi e giovani del territorio ma sicuramente quella è la base di partenza senza quello poi è impossibile pensare di lavorare su eventuali futuri inserimenti quindi sarà sicuramente uno degli obiettivi quello di rafforzare diciamo così la presenza dell'Atalanta non solo nella provincia di Bergamo dove peraltro è già fortissima ma in tutta la Lombardia Amato, Gazzetta dello Sport Buongiorno e benvenuto lei raccoglie appunto un'erità importante che è quella di Favini le chiedo, l'ha già in parte accennato quanto è inflitto sulla sua scelta e soprattutto come linee di mandato quanto proseguirà questa tradizione importante dell'Atalanta a livello giovanile ecco idealmente come pensa di inserirsi in questo solco grazie Sicuramente pensare di potermi sedere alla scrivania o comunque di ricoprire il posto e il ruolo che ha avuto Favini qui ha influito sulla mia scelta è chiaro che la parte più importante come ho detto prima sono stati quei dieci, forse quarto d'ora perché è durato un quarto d'ora il nostro dialogo per il quale poi ho dato la mano a Luca e quindi quella parte lì sicuramente ha influito io sono fatto in maniera particolare e sono sempre stato legato anche alla storia e quindi assolutamente come ho già detto la presenza nella mia testa di Favini è stato un fattore determinante spero di fare se riuscisse a fare un centesimo di quello che ha fatto lui per la storia dell'Atalanta sarei strafelice penso farei felici tutti i tifosi dell'Atalanta perché quello che ha fatto lui non si può replicare quello che è stato lui manco mi avvicino perché ovviamente è stata una figura che non ha avuto paragoni nella storia non dell'Atalanta ma del calcio giovanile è chiaro che crescendo con tanti suoi insegnamenti spero di poter portare il mio contributo legandolo a quel tipo di storia e adeguandolo a quello che oggi è il calcio in generale ed è il calcio giovanile che è chiaramente completamente diverso ma soprattutto sono completamente diversi i giovani che quindi vanno non solo pensato di selezionarli e farli giocare ma dal mio punto di vista cose che ho condiviso anche lì quel giorno bisogna pensare di formarli a 360 gradi non solo sul campo perché oggi ne hanno la necessità e soprattutto bisogna forse tornare a farli divertire un pochettino di più a farli sorridere un pochettino di più perché già di pressioni ne hanno se le mettono da soli le mette tutto l'ambiente noi magari riuscendo a farli sorridere riusciamo a farli crescere meglio Riscassi Rai Ciao io ho la fortuna di conoscervi da un po' quindi benvenuto doppiamente volevo sapere cosa pensi di questa idea che sta sorgendo dell'Under 23 della seconda squadra visto che comunque potrebbe essere un meccanismo di passaggio e so che tu è un meccanismo a cui credi grazie Scusa direttore qui poi magari fa un passaggio anche il dottor Percassi Dal mio punto di vista è stato un altro fattore che ha portato alla decisione quando Luca mi ha spiegato che l'intenzione era perché non c'era nessuna certezza e ovviamente questa è poi una cosa di cui parlerà Luca però per ogni responsabile del settore giovanile pensare di avere una seconda squadra è un sogno per me è sempre stato un sogno ho sempre invidiato i miei colleghi della Juve perché in Italia l'unica squadra che l'unica società che aveva la seconda squadra è stata la Juve ed è innegabile che quel tipo di progetto quel tipo di investimento è clamorosamente importante per tutto ciò che sta sotto quindi poi parlare nello specifico della seconda squadra non spetta a me ma sicuramente è stato un altro fattore che diciamo così ha confermato qualcosa che già esisteva perché che l'Atalanta abbia sempre creduto nel settore giovanile abbia sempre investito tantissimo è un dato di fatto questa cosa è stata un'ulteriore spinta per me perché ripeto per me è sempre stato un sogno pensare di lavorare in una società dove c'è una seconda squadra Dottor Percassi Sì comunque sul tema dell'Under 23 confermo la volontà della società e della proprietà nel nostro progetto di poterla realizzare questa dimostrazione del fatto che la società continua ad investire moltissimo nel settore giovanile e lo dimostra il fatto che siamo riusciti a portare all'interno del nostro progetto Roberto Samaden e il fatto che si voglia fare l'Under 23 rappresenta ulteriormente la disponibilità di investire sul nostro settore giovanile per dare maggiore possibilità ai ragazzi che crescono sui nostri campi di poter arrivare a essere professionisti quindi è uno sforzo importante ovviamente che speriamo ogni giorno riusciamo a raccogliere qualche certezza in più dobbiamo però ovviamente aspettare il 7 col consiglio federale capire chi non si iscriverà o chi non diciamo le carenze di organico per poi capire effettivamente però l'Atalanta che crede molto nella crescita dei propri ragazzi ha deciso di fare questo ulteriore passo che sarà impegnativo è una novità assoluta però dimostrazione del fatto che lavorare non ci ha mai fatto paura speriamo di raccogliere anche dei buoni risultati Bavassori ecco di Bergamo buongiorno ha insistito prima dando un input sul discorso bisogna farli anche divertire questi ragazzi pensa che ci sia troppo una cultura un po' legata eccessivamente ai risultati anche a livello giovanile e seconda cosa se ci può dare un'anticipazione magari sugli allenatori che ci saranno l'anno prossimo se ci saranno interventi o se ci saranno tante conferme la prima domanda io credo che sia uno dei grossi problemi del calcio italiano a livello giovanile che poi in realtà va declinata bene la cosa perché qualsiasi bambino e bambina inizia a giocare a calcio ragazzino ragazzina vuol vincere c'è chiunque vuol vincere giocando a calcio non conosco soggetti ancora di più giovani che vogliano perdere una partita quando iniziano a giocarla purtroppo siamo noi adulti che rendiamo in Italia questo un grossissimo problema si parla tanto di crisi del calcio giovanile dei giovani lo si analizza sempre al vertice ma non ci si preoccupa della base e credo che il problema grosso della base del calcio italiano sia proprio quello che noi adulti tutti noi concorriamo a far sì che l'ambiente dove sgambettano bambini e bambine ragazzine ragazzine non sia un ambiente sereno tranquillo questo non vuol dire che non bisogna voler vincere ma bisogna che i ragazzi e le ragazze devono voler vincere gli adulti che stanno fuori devono anche insegnargli come si può vincere nella maniera corretta nel rispetto dell'avversario come si può accettare una sconfitta quindi quando dico che bisogna farli divertire io continuo a pensare che la grossa differenza tra il calcio italiano a livello giovanile e qualsiasi altro paese d'Europa è che l'ambiente quindi l'ambiente è formato è qualcosa che è formato dalle persone dalle strutture da tutto ciò che sta intorno a ciò che succede in campo non è molto adatto alla crescita serena dei ragazzi ecco perché credo che la prima cosa che deve vivere un ragazzino che è una ragazzina che entra nel centro di Zingonia deve entrare in un bel ambiente deve entrare in un ambiente dove sta bene dove se riesce arriva 5 minuti prima e ci resta 5 minuti in più alla fine dove trova tutte persone accoglienti poi ognuno con i propri ruoli ognuno con le proprie competenze ma credo che il fattore ambientale sia quello che fa la differenza anche in passato io conoscendo bene quello che è stato fatto qui ma in altri settori giovanili forse c'era un po' meno tecnologia un po' meno metodologia un po' meno di tutto quello che pensiamo succeda sul campo ma quello che veramente contribuisce poi anche a formare i giocatori è quello che c'è fuori dal campo non quello che c'è dentro perché poi il calcio è sempre uguale il campo è sempre lo stesso ci sono due porte c'è un pallone ogni tanto c'è l'arbitro ogni tanto non c'è ma forse con un po' più di serenità e quindi noi possiamo concorrere a fare questo l'altra domanda non mi ricordo cos'era la seconda parte se ci può dare qualche anticipazione sugli allenatori conferme in quel quarto d'ora ho detto a Luca perché mi ha chiesto ma nel caso tu accettassi l'incarico chi pensi di portarti nessuno perché secondo me l'Atalanta è un ambiente fantastico un settore giovanile fortissimo che bisogno c'è che io porti qualcuno quindi l'idea è stata quella di continuare a lavorare con tutte le persone che l'Atalanta ha di conoscerle e poi eventualmente magari in futuro di cercare di concordare con la proprietà di eventualmente qualche modifica quindi l'idea di Massima è che tutti tutti fossero e tutti continuino fossero confermati e quindi questa è la linea che abbiamo concordato ovviamente poi magari qualcuno preferirà prendere altre strade oppure ci saranno altre opportunità ma l'idea adesso dobbiamo ancora definire con precisione perché ho iniziato ieri anche perché come avete letto io ho finito venerdì alle 18 sono uscito all'ufficio dell'Inter perché lo dovevo all'Inter perché 33 anni al di là che anche se ci fossi stato un anno avrei fatto così perché sono fatto così ma io ho finito di lavorare all'Inter venerdì e ho iniziato all'Atalanta ieri e quindi adesso in una settimana dieci giorni con tutti i miei collaboratori in primis con Giancarlo Finardi che sarà il vice direttore che sarà la persona di maggior mio riferimento definiremo diciamo l'organigramma e l'organico degli allenatori però in linea di massima continueremo a lavorare con quelli che hanno lavorato anche l'anno scorso Cucchi Bergamo TV Buongiorno quanto ha influito il suo legame con la Bergamasca in questa scelta dalla moglie all'overe che so che conosce benissimo Sì beh io sono di origine comunque valtellinese quindi sono legato anche a certi ambienti e poi nel tempo ho acquisito anche diciamo così una parte di cittadinanza bergamasca chiamiamola come volete voi però la mia famiglia e parte della mia famiglia proviene proprio da quella zona e quindi sono cresciuto anche diciamo capisco abbastanza bene nel dialetto perché questo è importante non lo parlo perché se no potrei fare faccio veramente fatica però lo capisco quasi quasi alla perfezione che il che è già un passo importante e comunque anche quello sicuramente il legame con la terra bergamasca c'è io ripeto di origine solo la mia famiglia e mio padre viene da Sondrio però comunque il legame con questa terra c'è diciamo che non ha influito perché ovviamente è stata una scelta professionale e questa era indipendente da eventuali legami dal punto di vista familiare però ho fatto felice non solo non solo gran parte della mia famiglia ma anche tanti amici che erano nella bergamasca perché io ho una casa lì e abitualmente l'estate stiamo lì per cui ho un po' più di pressione esatto e soprattutto le foto che sono uscite ieri come ho detto a Luca e come ho detto a suo padre hanno fatto felici tantissimi tantissimi miei amici Fumagalli Corriere della Sera Buongiorno direttore buongiorno a tutti io le chiedo in 33 anni di Inter secondo lei il suo successo più grande da un punto di vista umano e professionale grazie il mio successo più grande l'ho detto anche l'altro giorno è stato il premio che ci è stato assegnato in questa stagione dall'ECA dall'associazione di club europei quindi all'interno di un'associazione dove ci sono 250 club il premio per il progetto formativo educativo che è nato nel 2017 e che si chiama progetto educational quindi quando dicevo prima la formazione dei ragazzi non può essere pensata solo in campo e a 360 gradi vuol dire occuparsi di loro come d'altra parte ha fatto anche l'Atalante come fanno tanti club sicuramente quello è forse la cosa più importante che in questi anni non io perché quel premio non l'ho vinto io l'ho vinto la società ma soprattutto è frutto di un lavoro come tutti i lavori di settore giovanile sono lavori di squadra non emerge una persona è un lavoro di gruppo nel quale tutte le persone sono importanti e quindi quello sicuramente è una cosa che ricordo e mi porto a casa come ricordo importante Gennari Tutto Sport Buongiorno una domanda per Samadine e una per Luca ha parlato prima di Favini io mi ricordo che Mino raccontava sempre di quanto gli piacesse andare sul campo e guardare le pagelle dei suoi ragazzi sono due caratteristiche che ha portato avanti quando tutti parlavano di tecnica tattica di calcio volevo sapere lei cosa ne pensa e come si approccia all'andare sul campo e a seguire i ragazzi anche fuori dal campo da puntista scolastico ma non solo e a Luca l'arrivo di un dirigente che ha un passato come il suo e ha dei numeri come i suoi perché oggettivamente in 33 anni ha vinto un sacco di cose con l'Inter e sono passati un sacco di giocatori del settore dell'Inter e sono poi andati nel calcio che conta sposta in qualche maniera gli investimenti o l'approccio che la società pensa di poter fare in base magari alle sue indicazioni o resta il modello di sempre cercando di esaltarlo con quello che è il suo modo di lavorare No, nel senso che ovviamente vincere dei campionati gratifica il lavoro ma l'obiettivo dell'Atalanta non è mai stato vincere i campionati ma far crescere i ragazzi la verità è che quando hai dei ragazzi bravi come spesso ne abbiamo avuto abbiamo vinto anche dei campionati la politica della società non cambia ma è esattamente quello che nella nostra chiacchierata Roberto diciamo ha sposato a lui diciamo l'Atalanta dà l'opportunità che i ragazzi da piccolini possano giocare in prima squadra stabilmente come diciamo Scalvini ecco questo magari è il vero tassello che noi dobbiamo continuare a cercare penso che come tutte le esperienze bisogna saper cogliere il meglio da tutte queste esperienze però il progetto l'Atalanta è quello che conosciamo crescere credere nei propri ragazzi portarli in prima squadra e far sì che il percorso continui se all'interno di questo percorso si può vincere anche qualche titolo benissimo ci è già capitato però l'obiettivo vero è formare i ragazzi e portarli in prima squadra per quanto riguarda allora come detto non ho nel passato nella competenza che aveva Favini nell'andare in campo ma ovviamente a me piace sono stato allenatore anche se di livello molto basso per non usare altri termini e quindi nasco così a me piace seguire piace guardare le partite piace guardare gli allenamenti nello stesso tempo conoscendo diciamo le mie caratteristiche ovvero i miei limiti cosa che penso sia fondamentale per una persona ho bisogno di essere circondato e così è e sarà da persone che il calcio lo conosco nell'anno giocato perché io è innegabile che dentro uno spogliatoio non ci sono mai stato e dentro un campo da calcio vero non ci sono mai stato se non nei sogni da bambino e quindi credo che non sarebbe corretto e neanche intelligente da parte mia pensare di avere lo stesso approccio che ha avuto e aveva Favini come possono avere altri responsabili che hanno avuto un'esperienza di calcio vero però oltretanto vero che a me piace vedere tutte le partite piace conoscere tutti i giocatori e piace guardare anche gli allenamenti infatti un altro sogno che realizzo è affacciarmi da una finestra o dal terrazzo e guardare perché la cosa più bella del mondo è guardare i ragazzi che si allenano guardare i bambini che giocano e cercano di coltivare quel sogno che tutti noi abbiamo avuto per quanto riguarda invece l'aspetto legato alla scuola come ho detto io da Favini sono stato tante volte perché mi ha sempre accolto qui ogni tanto andavo a Meda a trovarlo e quindi a me ha sempre colpito in quello che tu dicevi cioè la pagella l'attenzione che lui dava a 360 gradi ai soggetti che poi entravano in questo centro sportivo o prima ancora a Como quindi diciamo la parte scolastica è una parte fondamentale vedo lì davanti il premio Brembo mi sembra che l'Atalanta abbia continuato a seguire la tradizione e l'insegnamento di Favini da questo punto di vista oggi ancora di più è importante avere attenzione a 360 gradi che non vuol dire pensare di sostituirsi alla famiglia perché non siamo la principale agenzia educativa come società sportiva ma è altrettanto vero che oggi che tutte le persone non solo sottoscritto abbiano attenzione e si preoccupino a 360 gradi del bambino della bambina del ragazzino dell'adolescente è fondamentale dentro questo delle volte basta come stai come va come va la scuola e due minuti un minuto durante anche una salute allenamento e si arriva a quello che Favini ci ha insegnato cioè non sono solo soggetti che vengono qui e giocano a calcio sono persone che hanno bisogno da parte nostra di attenzione e quindi in quello io la traduco comunque Fabio quello che dico io è ovviamente e l'ho detto nelle premesse ma ci tengo anche a ribadirlo anche Maurizio Costanzi ha fatto un lavoro straordinario io gli avevo chiesto di poter fare un saluto ma per diciamo sua abitudine ha preferito lasciare senza un saluto ufficiale però da parte nostra da parte mia da parte di tutta l'Atalanta un immenso grazie per il lavoro che lui ha fatto perché è stato qualcosa di altrettanto straordinario Roberto Samaden raccoglie l'eredità di queste due grandi figure che hanno fatto veramente la storia dell'Atalanta però è altrettanto vero che se Roberto Samaden probabilmente per per umiltà non dice quante persone lo hanno contattato nel momento in cui ha deciso di magari finire la sua storia con l'Inter per tutta una serie di motivi se Roberto Samaden viene all'Atalanta vuol dire che l'Atalanta è speciale e ha qualcosa di raccontare da raccontare quindi noi sappiamo chi siamo sappiamo come dobbiamo lavorare e dobbiamo andare avanti con le nostre caratteristiche senza mai snaturarsi la nostra è una terra di lavoro basata sul lavoro probabilmente poi si sbaglia perché non comunichiamo tanto perché non diciamo tanto perché non parliamo tanto magari ci si potrebbe fare una miglior promozione di se stessi ma non è la nostra caratteristica a volte è un difetto però cerchiamo persone di sostanza quindi penso che l'Atalanta abbia ulteriormente dimostrato che è speciale nel momento in cui il miglior dirigente italiano che cura settore giovanile decide di venire qui tra l'altro mi unisco alla considerazione fatta da Luca perché credo sia corretto e voglio ringraziare Maurizio perché a parte che è un amico e pur rivali abbiamo sempre condiviso il nostro percorso perché è un percorso lunghissimo il suo diviso tra Chievo e Atalanta al mio in una sola società che è stata l'Inter che devo anche ringraziare perché mi ha dato la possibilità poi di vivere un'esperienza eccezionale e quindi con Maurizio c'è sempre stata condivisione e tra l'altro si è messo a disposizione totale nel momento in cui io anzi come dire credo anche che abbia avvallato anche la scelta da parte della società si è messo a disposizione è stato primo quando ho saputo della mia scelta è stato il primo a telefonarmi si è messo a disposizione e quindi quindi lo ringrazio anche perché con lui veramente il rapporto è sempre stato di amicizia di legame quindi continuerà a esserlo e quindi quel passaggio ideale tra da Favini a lui a me spero di essere all'altezza del lavoro che hanno fatto loro due aggiungo una curiosità perché me l'avevi tirata fuori prima avete parlato di un quarto d'oro per trovarsi e mettersi d'accordo adesso Luca mi dice che c'erano tante che cercavano chiedo sia in Italia che all'estero e non diamo nome però c'è un numero per dare a me una dimensione un numero ampio perché 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 la considerazione della persona e delle qualità della persona di Romerito Samaden poi in questo mondo si sa tutto se una persona è di un certo livello si sa siccome è difficile trovare persone di questo livello nel momento in cui il mercato viene a conoscenza della disponibilità è normale che i grandi club grandi galassie cercano di accapararsi queste persone noi nella nostra limitatezza siamo riusciti invece a convincerlo in un quattro d'oro sì su principi su principi semplici io poi è così cioè in realtà non sta a me dirlo perché non mi piace neanche io sono abbastanza abituato a stare dietro le quinte non a non apparire per cui non sta a me dire però io avevo già praticamente fatto un'altra scelta e quindi in quel quarto d'ora c'è stata la parte mia come dire quando poi una scelta la fai non con la ragione ma innanzitutto col sentimento perché comunque anche trovare per me una proprietà italiana una famiglia sono tutte cose a cui io sono stato abituato e quindi è stato veramente un incontro brevissimo in realtà quando io sono andato tanto posso dirlo a parlare con Luca era praticamente l'Atalanta è arrivata per ultima o quasi a contattarmi perché nel frattempo avevo già fatto diversi colloqui e sinceramente dentro di me e non solo dentro di me anche in famiglia ho detto vado per dovere perché è giusto andare a parlare quando ti chiama un dirigente di alto livello quando ti chiama la famiglia per cassi quando ti chiama una società come l'Atalanta però nel mentre che io mi avvicinavo a Bergamo era come veramente andarci perché era doveroso e giusto andarci ma con l'idea di andare a fare una chiacchierata di conoscere perché con Luca c'eravamo intravisti qualche volta ma non c'era mai stata la possibilità di conoscere di conoscere ripeto un dirigente di alto livello ecco poi ogni tanto i pensieri che hai in testa te li smontano in un attimo delle situazioni particolari e ripeto non è durato più di un quarto d'ora l'incontro poi dopo ci siamo ritrovati altre volte per condividere magari altri particolari ma la stretta di mano che ci siamo dati è stata una stretta che è venuta fuori da quel quarto d'ora in cui si è condiviso soprattutto e mi ha spiegato qual è la visione qual è l'idea e qual è anche il sentimento che la società non solo tutto il resto che è importante ma anche il sentimento che la società e la famiglia per cassi mette nel settore giovanile che tra l'altro credo e non lo devo dire io è una storia quella della loro famiglia irripetibile cioè pensare che chi ha giocato nel settore giovanile poi ha giocato in prima squadra poi è diventato proprietario presidente cioè è una storia unica e quindi anche in questo credo ho trovato qualcosa di cui forse avevo bisogno e che mi ha acceso e fatto cambiare completamente idea Iannarelli tutto un mercato web e corriere dello sport buongiorno direttore volevo chiederle visto che abbiamo parlato anche di aspetti un po' sentimentali legati alla figura di Mino Favini ma qual è stato l'aspetto tecnico che anche visto da fuori che in questi anni ha avuto modo di conoscere l'Atalanta qual è stato l'aspetto o gli aspetti tecnici che l'hanno convinta a diventare il nuovo responsabile al settore giovanile in che senso aspetti tecnici aspetti tecnici magari al di là di come l'Atalanta opera anche a livello giovanile quali sono le eccellenze che magari riescono che l'hanno colpita in questi anni dell'Atalanta dell'Atalanta sì io ritorno più che aspetti tecnici ritorno al concetto di ambiente io credo che questo non io da sempre questo è un ambiente che è stato costruito e pensato e che continua a essere pensato per far crescere bene i giovani e quindi questo per un responsabile del settore giovanile è il fattore tecnico più importante perché non c'è lo dicevo prima io ogni tanto vado anche un po' controcorrente quando ci sono le metodologie i segreti ma non c'è segreto per fare per far crescere dei giovani non c'è una metodologia particolare c'è un ambiente che è il fattore determinante per la crescita di qualsiasi elemento vitale l'ambiente non solo di un ragazzino o di una ragazzina che gioca a calcio quindi se proprio vuoi una risposta il fattore fra virgolette tecnico è entrare e avere la possibilità di lavorare in un ambiente che da sempre e credo per sempre anche in futuro ha questa caratteristica Fornoni Assa Buongiorno direttore dopo anni in cui la prima squadra dell'Atalanta ha tinto direi con risultati sorprendenti dal settore giovanile la primavera nella stagione appena conclusa ha segnato un po' il passo salvandosi all'ultima giornata ecco ma la sensazione è quella di dover ricostruire qualcosa di dover rivedere qualcosa nel progetto di un anno zero se posso rispondo io perché giustamente Roberto arriva penso che quando si hanno delle difficoltà di risultati sportivi le difficoltà ti permettono veramente di riflettere sul perché ci possono essere state delle difficoltà evidentemente qualche valutazione qualche errore si è fatto la verità è che la squadra della primavera era assolutamente una buona squadra però io penso che quindi il risultato sportivo comunque si è raggiunto che è scontato per l'Atalanta ci mancherebbe però ogni tanto qualche difficoltà ti permette di riflettere su che cosa si stava sbagliando e quindi è stato comunque un'esperienza molto molto utile da sperare di non ripercorrere però molto molto utile si aggiungo anche che il campionato primavera è diventato un campionato molto particolare molto difficile molto competitivo molto più che in passato e soprattutto negli ultimi due anni in particolare quest'anno ci sono e parlano anche i risultati perché come dire uno potrebbe parlare poi di stagione fallimentare a livello giovanile è tutto da vedere però anche altre squadre non hanno raggiunto grandi risultati e magari li hanno raggiunti squadre fra virgolette un po' più piccole che però magari hanno investito nel breve per creare delle squadre competitive cioè io prendo per non parlare dell'Inter prendo l'esempio per esempio del Milan che comunque è arrivato alla Final Four della Youth League quindi aveva una squadra di livello importante perché a Nyon non ci arrivi se non è una squadra di livello importante nel campionato italiano anche il Milan si è trovato fino a poco dalla fine in una situazione anche quella di classifica che era diciamo fra virgolette pericolosa ecco questo per dirvi che in generale la connotazione che ha preso il campionato primavera è molto particolare quindi ci sta che nell'interpretazione di una stagione ci possano trovare le difficoltà che ha trovato l'Atalanta ma che quest'anno ha trovato anche l'Inter che ha trovato il Milan perché a 4-5 giornate alla fine c'erano 4-5 squadre che erano tutte lì e poi tenete presente che comunque sono giovani e quindi in quelle situazioni non sono abituati a starci e delle volte fanno fatica i ragazzi stessi a gestire quelle situazioni quindi credo che dobbiamo abituarci per come è e come diventerà ancora di più il campionato primavera se verrà invecchiato a pensare che non è più proprio un campionato giovanile ma che è un campionato più vicino a quello degli adulti insomma Buongiorno una domanda a testa a Samaden volevo chiedere se è più importante la tecnica o il fisico e invece a Luca Percassi volevo chiedere se sull'esperienza dell'Under 14 dello scorso anno all'Overe verrà introdotta trova conferma la notizia della settimana di ritiro estivo anche per le altre squadre del settore giovanile sul territorio e se sì dove grazie Per quanto riguarda la tecnica o il fisico la cosa che è importante è sapere giocare a calcio come in qualsiasi gioco poi ci sono dei fattori che in base anche ai ruoli adesso dico una banalità è normale che se fai il portiere e non c'hai centimetri fai fatica a fare il portiere però credo che la cosa che in questo caso ancora di più nel calcio di oggi fa la differenza e farà la differenza in un calcio che è diventato molto fisico molto veloce ancora di più farà la differenza saper giocare a calcio e quindi legandomi non solo all'aspetto finemente tecnico ma anche a quello proprio di saper giocare in sostanza di fare le scelte giuste al momento giusto di avere la tecnica che ti permette nel fare la scelta giusta poi di eseguire il gesto nella maniera più idonea però io sono convinto che poi è chiaro che nella crescita nella fase finale di crescita l'aspetto fisico-atletico fa la differenza perché poi come dice qualcuno i giocatori devono avere anche un motore di un certo tipo per poter giocare ad alti livelli però è fondamentale cioè se hai il motore ma non sei a giocare a calcio probabilmente puoi aver successo in altri sport ma non nel calcio quindi credo che il fattore determinante a tutti i livelli è quello di saper giocare a calcio sì l'esperienza è stata molto positiva e il principio è proprio condiviso con Roberto è che già da quest'anno si cerchi di fare i ritiri per tutte le squadre del settore giovanile che la volontà è quella di stare nel territorio Roberto ci sta lavorando e anche in questo vi potremo comunicare a brevissimo in che periodo e quando e dove le squadre del settore giovanile faranno qualche giorno di ritiro quindi l'esperienza sul territorio in cui i ragazzi stanno insieme durante la fase del ritiro è assolutamente una cosa che ci piace fare adesso per le località le località la primavera andrà a Selvino quindi comunque le località sono Selvino Serina stiamo lavorando anche per i più piccoli su altre località le stiamo definendo però l'idea condivisa che mi piace e conferma quello che poi ha detto Luca è proprio quella che comunque dà la possibilità ai ragazzi di iniziare la stagione non tanto per fare la preparazione fisica ma per stare insieme per fare magari anche una gita e comunque vivere insieme ai loro allenatori ai loro staff un momento che è l'inizio stagione e farla ancora di più in un territorio che è bellissimo che ha un sacco di centri sportivi e di posti dove fare calcio molto belli è una cosa che sicuramente ha un valore Maggi Caccio Atalanta Buongiorno direttore benvenuto le chiedo visti anche i suoi roli istituzionali in federazione come vede la riforma dell'ultimo campionato primavera e se l'intento può essere quello di fare una sorta di campionato in stile Under 23 sul modello inglese quindi un campionato con un'età un po' più alta che però possa aumentare l'interscambio con le prime squadre quello è un tema di cui si sta parlando da tanto tempo dall'anno prossimo ci sarà un invecchiamento del campionato primavera che quindi tornerà a essere il campionato Under 20 perché in realtà anni fa era un campionato Under 20 con l'introduzione delle seconde squadre è stato pensato un campionato Under 19 ma poi le seconde squadre non sono diciamo partite e quindi il senso è quello in questa maniera di sopperire al fatto che di seconde squadre non ce ne sono tante in questo momento da un lato se guardiamo i modelli europei i giocatori di 20 anni negli altri paesi giocano già cioè non sono neanche più giovani cioè noi in Italia parliamo di giovani dei rennati nel 2000 un giovane all'estero un giovane un 2004 un 2005 hanno fatto esordi dei 2007 quelli sono giovani in altri paesi però altrettanto vero che dobbiamo pensare la situazione in Italia in questo momento è soprattutto legata anche alla difficoltà dei giovani in uscita ecco perché l'idea di avere una seconda squadra è illuminante perché ti permette di crescere al tuo interno di garantire e di continuare il loro percorso di crescita senza rischiare di mandarli fuori in prestito magari delle volte a non giocare io credo che alla fine la cosa più importante è che non pensare che l'invecchiamento di un anno della primavera o il ringiovanimento se si dovesse prendere un'altra strada risolva un problema e tutto deve essere pensato in un contesto più ampio e globale dove si considerano anche quello che fanno i bambini di 8 anni di quante ore di calcio si fa nella scuola e di che ambiente noi siamo in grado di costruire per far sì che loro si divertano stiano bene magari un domani diventino giocatori di calcio quindi io non credo che sia quella una risoluzione dei problemi credo sia stato pensato in un contesto più ampio a chiudere Porfidia Teleclusone benvenuto benvenuto Roberto Samaden volevo chiedere intanto che effetto le fa essere considerato come ha detto Luca Percassi il più grande acquisto dell'Atalanta e poi anche questo oltre alle coppie trofei che lei ha in Bacheca il premio progetto educational indica un po' anche la sua che sta molto in linea con i principi di Mino Fabini che tra l'altro aveva anche un filo diretto con la prima squadra così sente anche una responsabilità anche sotto questo aspetto anche di di tradunione con la prima squadra ma innanzitutto infatti quando Luca prima stava dicendo quella cosa io stavo dicendo poca pressione cioè proprio inizio proprio lo ringrazio chiaramente ha esagerato perché gran parte delle cose che ha detto non sono corrispondenti alla verità io ho sempre cercato di fare il mio lavoro con grande con grande umiltà e con grande dedizione e continuerò a farlo la verità è che sono sempre stato messo in condizione di fare un buon lavoro perché non esiste una persona che da sola riesce a far funzionare un'organizzazione ho scelto di venire qui perché sono certo di poter essere ancora messo in condizione di fare il massimo è chiaro che le sue parole non sono assolutamente come dire non mi trovano d'accordo io spero spero di di essere all'altezza delle aspettative ma sono sicuro di di aver fatto la scelta giusta sono sicuro di aver fatto la scelta giusta sotto tutti i punti di vista quindi dal punto di vista professionale dal punto di vista anche sentimentale perché credo che nelle scelte non ci possa essere solo la ragione ma ci deve essere anche qualcosa che fa sì che non vedi l'ora di iniziare a fare qualcosa che non vedi l'ora di entrare nel tuo ufficio che non vedi l'ora la mattina di arrivare qui e magari di star qui fino alla sera tardi la stessa cosa devono viverla tutte le persone che stanno in un settore giovanile perché senza questo tu non puoi trasmettere niente ai ragazzi puoi essere il miglior allenatore il miglior maestro della tecnica il miglior preparatore atletico ma se dal punto di vista umano tu non hai dentro questo non puoi minimamente pensare che poi loro abbiano dentro questo e quindi su questo per concludere anche penso perché poi siamo arrivati alla fine mi sento veramente di ringraziare nuovamente Luca suo padre la società e tutta l'Atalanta per questa opportunità e credo e spero riusciremo a portare avanti quello che l'Atalanta ha fatto negli anni passati perché non basta la mia presenza ci vuole soprattutto la società e ci vuole soprattutto una proprietà che ci crede in questo credo di non aver sbagliato proprio nella scelta prima di salutarvi terrei particolarmente a ringraziare per la loro presenza ma anche evidentemente per il loro supporto costante al settore giovanile dell'Atalanta e all'Atalanta in senso trasversale i rappresentanti degli sponsor del settore giovanile qui presenti a questa conferenza stampa li vado a citare nella fattispecie Stefano Giorgi e Ruggero Pizzigalli di Orio Center Mario Valotta e Stefania Favretto di Intesa San Paolo Mirko Annibale di IOMA Maria Caterina Baroni di Vedrai non so se il nostro amministratore delegato Luca Percassi vuole aggiungere qualcosa nel ringraziamento nei loro confronti mi ringrazio enormemente come sempre è grazie al settore giovanile che noi riusciamo a diciamo coinvolgere tanti partner che poi sono diventati molto spesso anche amici quindi questo è il messaggio più importante che noi diamo il fatto che abbiano trovato il tempo di venire ad ascoltarci dimostra ancora una volta perché hanno deciso di sposare il progetto Atalanta quindi da parte nostra un grazie enorme per quello che fanno sapendo che c'è molto da fare molto però come dicevo prima il lavoro non ci spaventa quindi ringraziandoli io auguro faccio un grande in bocca al lupo a Roberto e veramente un buon un buon lavoro grazie a tutti a tutti grazie a tutti Grazie.